Noi ci colleghiamo in diretta con Matteo Parlato che si trova a Lampedusa. Allora Matteo, puoi aggiornarci per favore su questi sbarchi di oggi? Certamente, come giustamente detto te, c'è stata questa operazione fatta dalla Capitaneria di Porto di Catania che ha portato a terra queste 62 persone che sono state soccorse 30 miglia a sud di Porto Palo. Fra questi ci stanno 25 uomini, 16 donne e 21 minori, ma il flusso ha dato segno di sé già questa mattina, già poco prima dell'arrivo di Papa Francesco, sono arrivati sull'isola, sui mezzi della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, su tre motovedette, sono arrivate 165 persone, fra cui quattro donne e sono stati subito, come prassi, fatti scendere, fatti sbarcare sul molo dove poi è sbarcato il Papa e però questa volta, al contrario di quanto è successo nel 2011, il 2011 ieri ero qua e mi ricordo quant'era la confusione, quant'era il caos, questa volta la macchina funziona perfettamente e non perché oggi c'era il Papa, ma perché è così tutti i giorni e subito i mezzi, le ambulanze, i pullman del centro di accoglienza erano lì sul molo per portare e prendere queste persone che venivano dal Nord Africa, dalla Libia e portarle subito nel centro di accoglienza in maniera ordinata perché qui ormai il flusso di entrata e di uscita è diventato una macchina potremmo dire veramente ben oliata, i turisti neanche si accorgono che c'è questo movimento i migranti arrivano in fuga dalle guerre dal Nord Africa, si imbarcano in Libia vengono soccorsi in mare sulle loro barche che sono veramente al limite del galleggiamento messi al sicuro sui battelli della capitania del porto e della finanza in questo caso e portati a Roma e pensate che per fare questa operazione, quest'ultima operazione di questa mattina le motovedette hanno acceso i motori a mezzanotte, sono partiti proprio nel cuore della notte hanno raggiunto in mezzo al canale di Sicilia questo battello che era in avaria hanno trasbordato tutte queste persone e le hanno portate qui a Lampedusa e sono arrivati qui appunto alle sette e mezza del mattino per cui immaginate quante ore di lavoro, quante ore di lavoro con poi sapendo che il giorno dopo c'era una giornata che ora si è conclusa, ora qui è notte ma sicuramente è stata una giornata lunga, importante e molto impegnativa e molto impegnativa certamente per tutti perché Lampedusa ha dato il meglio di sé per accogliere Papa Francesco ma per tutti quanti operano nel soccorso in mare questa è stata ancora più lunga, si è aggiunto questo soccorso che ha creato un accumulo di lavoro sul lavoro ma loro veramente sono instancabili in questo e lo fanno con una professionalità e una capacità operativa che è veramente incomiabile si è dimostrata esemplare l'isola in questa giornata importante grazie Matteo, ho parlato di questo collegamento si, volevi soltanto concludere, velocemente Matteo no, volevo dire che appunto Papa Francesco ha detto voi siete un faro proprio per questo motivo qua certo, sicuramente, grazie, grazie Matteo allora adesso andiamo in Egitto